Se li vendi tu va bene, io sto con l'idea, li porto qua, non li vengo, non li porto indietro, perché se non me li vanno, è un quadro che vale, se non li vanno. Non li vanno, non li vanno, non li vanno, non li vanno. No, per vent'anni, se mi dà la razza di vent'anni me la prendo io così, tra vent'anni sono ancora li così. Altro che venti quella, quella ha anche duecento, l'ottone. Quanto costa? Capo? Quanto costa? Quindici, funziona. Cinque, va bene? No, no, c'è dietro tutto, c'è la scatola e tutto dietro. Ah, due euro. Mi ricarica, pagani, così sì. Funziona, c'è già dietro tutto, c'è caricatore, tutto, solo il caricatore costa di più, nuova. Anche c'è memoria dentro? Memoria? No, guarda, era accesa stamattina.